Allora, oggi iniziamo la nostra lezione su un autore che fa parte dei nostri autori che affrontiamo dopo Cartesio e degli autori che sono appunto i critici di Cartesio. Spinoza è ebreo, nasce ad Amsterdam perché la sua famiglia è stata vittima di una società fanatica e intollerante e la sua cultura è una cultura vasta e profonda. Spinoza conosce molto bene l'Antico e il Nuovo Testamento, il Talmud, la filosofia ebraica, quella araba, il pensiero cristiano, la scolastica e ovviamente è la filosofia, le opere di Cartesio, di Bacone, di Holmes, di Bruno e di Leibniz, e il pensiero scientifico, teologico e politico della sua epoca travagliata. Ha relazioni politiche e scientifiche di alto livello, ma vive una vita piuttosto ritirata e in una modesta camera d'affitto, tra i suoi libri, dedito in obbedienza a un precetto rabbinico, a un lavoro manuale, a un mestiere di ottico che svolge con ambilità e che gli assicura un'indipendenza economica. Ne parleremo poi anche successivamente, nell'ultima parte, nelle ultime lezioni, in particolare quando affronteremo la seconda opera di Spinoza, cioè il Tractatus. Certamente alcuni fatti della vita di Spinoza influenzeranno questa seconda opera, il Trattatus Teologico-Politico, che apparirà anonima, che sarà pubblicata, lui sarà accusato di ateismo e da questa accusa Spinoza cercherà di difendersi. In realtà lui dirà di aver difeso per tutta la sua vita e appassionatamente soltanto la libertà di filosofare, di pensare e di ricercare. Questa libertà lui desidera salvaguardare, difendere in tutti i modi, dalle continue prevaricazioni dell'autorità politica e religiosa. Da bambino a solo otto anni ha vissuto all'interno della sua comunità in Bramma, ha assistito al suicidio di un amico di famiglia proprio in seguito a questo tipo di persecuzioni. Ora noi inizieremo a introdurremmo il pensiero di Spinoza attraverso l'etica e poi affronteremo il Trattato. E io vorrei entrare nell'opera di Spinoza attraverso le parole di un suo lettore, molto attento e direi un suo lettore straordinario. Un nostro filosofo contemporaneo, anche Deleuze, che ha tenuto alla fine degli anni 70 e nei primi anni 80 delle lezioni straordinarie all'università e sono raccolte in un testo che voi potete leggere in italiano che non è pubblicato con il titolo Cosa può un corpo? Lezioni su Spinoza. E vuole iniziare proprio da una piccola frase che Deleuze scrive proprio in apertura di queste lezioni. Essenza uguale il modo in cui Spinoza fa tremare il cuore a quelli che si avventurano nei suoi testi. Io non posso ovviamente fare tutte le lezioni di Deleuze con voi, ma cercherò di darvi qualche piccolo assaggio, strada facendo, dell'estraordinaria lettura che Deleuze fa di alcune pagine di Spinoza. e farò anch'io qualcosa del genere con le ultime pagine del Trattatus, non ovviamente del livello di Deleuze, ma cercherò di leggere con la stessa passione con cui Deleuze legge Spinoza alcune pagine del Trattatus nell'ultima lezione. Iniziamo dall'etica. Iniziamo dall'etica. Mi aspetto da voi un'obiezione immediatamente, perché l'etica ordine geometrico, demostrata, inizia, se voi aprite la prima pagina, inizia con un titolo, Dio, e con una serie di definizioni. Il metodo, infatti, di questo testo è il metodo deduttivo, perché Spinoza si ispira agli elementi di Euclide, quindi al metodo geometrico deduttivo, è un procedimento espositivo, cioè scandito attraverso definizioni, assiomi, teoremi, dimostrazioni corollari, e non è un semplice rivestimento formale delle sue idee, infatti in essi che spiegano la realtà sono l'espressione di una necessità razionale assoluta. E anche questo è il fascino di queste pagine, cioè posto Dio all'inizio e posta l'identità tra Dio e la sostanza, tutto procede con la stessa rigorosa necessità con cui, posta la natura del triangolo, tutti i teoremi del triangolo procedono rigorosamente e non possono non procedere. Ora, l'obiezione che mi aspetto da voi è come mai si intitola etica, come mai Spinoza da titolo di etica questo testo, che appunto per una buona parte, se voi iniziate a leggere, parla della sostanza. E questo lo capiremo un po' più avanti. Lo capiremo un po' più avanti. Ora, perché si intitola sostanza e non ontologia, per esempio. Ora, iniziamo a seguire passo passo quello che ci dice Spinoza, appunto, nell'etica. Allora, il fondamento da cui partire? Beh, chiaramente ormai c'è stato Galileo, Galileo ci ha detto che i sensi ingannano, l'esperienza dunque non ci può dare nessun fondamento. Allora, partiamo dalla sostanza. E cominciamo quindi a dire che cos'è, perché altrimenti non possiamo neanche iniziare. Allora, la sostanza è ciò che non manca di nulla. La sostanza è ciò che è in sé per sé. Lo diciamo in latino perché la definizione latina è completa. La traduzione italiana in sé per sé non ci dice molto. Id quad per sé estet per sé concipitur. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la sostanza, essendo in sé per sé, deve unicamente a sé stessa la sua esistenza. E cioè una realtà autosufficiente e autosussistente che non ha bisogno di altro per esistere. Cioè, la nozione di sostanza è concepibile solo per mezzo di sé medesima e perciò per essere pensata non ha bisogno di altri concetti. La sostanza gode di un'autonomia ontologica e concettuale. Che cosa vuol dire che gode di un'autonomia ontologica e concettuale? Gode di un'autonomia ontologica, cioè non ha bisogno di un'altra realtà, non presuppone un'altra realtà. E gode di un'autonomia concettuale, non ha bisogno di un altro concetto, non presuppone un altro concetto. È causa sui, cioè, che cosa vuol dire che è causa sui? È causa di sé stessa, in quanto per essere non ha bisogno di altro. Dunque, è infinita. Perché se fosse finita, avrebbe bisogno di qualcos'altro per essere. Invece è infinita. Allora, non manca di nulla. è in sé per sé, e cioè, è id qual per sé estet per sé concipitu, cioè, gode di un'autonomia ontologica e concettuale, è causa sui. È eterna, è una sola sostanza. Qui abbiamo la prima presa di posizione di Spinoza contro Cartesio. Cartesio si era chiesto che cos'è la sostanza. Aveva sì risposto, chiaramente riprendendo Aristotele e definendo la sostanza, in quanto sussistente per sé e separata dal resto, ma ci aveva poi parlato di due sostanze. Ora, per Spinoza, la risposta di Cartesio resta in qualche modo ambigua, e deve essere perciò superata. La sostanza è una. Vedremo poi come Cartesio risolve la questione del pensiero e dell'estensione, del corpo e della mente. Ma per ora, vediamo un attimo le conseguenze di questa prima affermazione. Quindi, c'è una sola sostanza, e questa sola sostanza è una, è unica, perché due sostanze infinite sarebbero contraddittorie. È eterna, non riceve la sua esistenza da altro, il suo concetto include l'esistenza. Qui è chiaro che stiamo parlando di una idea, di un concetto unico nel suo genere, cioè il concetto di Dio. Lo abbiamo visto, e questo è il fascino della prova ontologica, questa prova l'abbiamo vista quest'anno, almeno nelle sue due formulazioni più famose, quella del monaco Sant'Anselmo e quella di Cartesio. In tutte e due, l'esistenza è inclusa nel concetto, ma questo argomento ha il suo fascino nel fatto che non si può proporre per qualunque concetto, ma per un unico concetto, che è il concetto di Dio. Solo per il concetto di Dio vale la prova ontologica. Per quest'unico concetto, l'esistenza è inclusa nel concetto di Dio. È infinita, dicevamo, perché se fosse finita dipenderebbe da qualcos'altro, è libera. Ecco qui mi fermerei un attimo, poi torneremo più volte su questo concetto, almeno due volte in queste lezioni. La libertà per Spinoza non è in libero arbitrio, noi abbiamo visto quest'anno diversi significati di libertà, li abbiamo anche poi riassunti in una scheda. Uno di questi significati è la libertà da costrizione, era uno dei più semplici dei significati che avevamo visto. Bene, per Spinoza la libertà è libertà da costrizione, dunque Dio è libero in quanto agisce senza alcun condizionamento esterno, ma nello stesso tempo è necessitato perché agisce secondo le leggi immanenti del suo essere. Dunque attenti perché in Dio la libertà e la necessità coincidono. Ma la necessità non è mai una necessità esterna, è sempre la necessità interna, immanente del suo essere. Quindi libertà per Spinoza non è mai libertà della volontà, non è mai libertà come libero arbitrio, è libertà da coazione, libertà da costrizione, da condizionamento esterno e in Dio libertà e necessità coincidono. Quindi attenzione, Spinoza, l'etica non sarà pubblicata ovviamente, ma sarà pubblicata a posto, ma Spinoza si separa nettamente dalla tradizione giudeico-cristiana in quanto ritiene che Dio e mondo, Dio e natura, siano una stessa cosa. Dio non è fuori dal mondo, ma è la natura. Deus, Sive, Natura. E questa è la prima cifra, la prima parte del pensiero di Spinoza. Spinoza arriva a questa identificazione a partire dall'unicità della sostanza. Dio, sostanza, natura. Sono un'unica realtà. Parliamo quindi di panteismo. Dio non è il Dio della Trinità, non è il Dio persona della tradizione giudeico-cristiana. È il Dio che coincide con la natura, con l'ordine cosmico. Quindi, per Spinoza, tutto ciò che c'è è divino perché è parte di Dio, ma non dovete confondervi con l'idea di partecipazione che abbiamo visto, per esempio, nel pensiero otomista. Qui siamo proprio su un altro piano, che è quello che abbiamo definito panteismo, che non ha nulla a che vedere con il concetto di partecipazione che noi abbiamo visto in San Tommaso. Ora, introduco qui un ultimo aspetto che in realtà non è presente nell'etica, ma nel Tractatus, però, lo introduco qui perché concettualmente si lega a quello che sto dicendo, proprio perché Dio, la natura coincidono e costituiscono un ordine, Spinoza esclude i miracoli. Ne parla nel Tractatus ed è molto interessante perché esclude che possa esistere un qualcosa che noi chiamiamo oggi, per esempio, ma non solo oggi, che noi chiamiamo Contro Natura. cioè, non esiste qualcosa che possa andare Contro Natura. Quindi, non esistono i miracoli perché i miracoli sono una sovversione dell'ordine naturale. Dunque, per Spinoza sono qualcosa che non 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 ci può essere o è semplicemente frutto del sto cercando il passo o sono semplicemente o è semplicemente frutto del dell'uomo di un vediamo se lo trovo di un di un'interpretazione dell'uomo ma appunto la il miracolo non c'è di fatto non si può dare scontro natura non è possibile andare contro natura ecco ecco tutto ciò che noi chiamiamo miracolo esige delle cause naturali tutto ciò che è contrario alla ragione è da respingere e così via ora ovviamente è una trattazione ne tratta in più punti del tractatus perché chiaramente il miracolo è presente nell'antico testamento oltre che nel nuovo testamento e quindi ne fa una trattazione piuttosto minuziosa spinosa dimostrando appunto che laddove se ne parla in realtà si tratta di una interpretazione dell'uomo e dunque non è possibile sostenere la verità dei miracoli contro l'ordine della natura allora il problema di cui tratteremo la prossima volta riguarda la deduzione del finito dall'infinito è appunto il rapporto tra la sostanza e il finito di cui Spinoza è costretto a trattare perché noi ne abbiamo esperienze dunque deve non solo dedurlo e dunque giustificarlo ma deve appunto dirci in che modo l'infinito si finitizza e quindi parleremo degli attributi e dei modi di cui